La primavera delle idee con questo slogan che Elvira Serra, candidata a sindaco per le prossime amministrative che si terranno nella città di Agropoli il 12 giugno, oggi a Cilento Ciannele vuole parlare ai cittadini di Agropoli riguardo questa sua scelta politica di ritornare in battaglia. Grazie per aver invitata per esprimere qual è il nostro progetto, non è soltanto il progetto di Elvira Serra, è un progetto di un gruppo di persone serie, oneste e competenti, molte delle quali non hanno fatto mai politica fino ad oggi, che vogliono riscoprire la collaborazione con la città. La realtà sociale, il tessuto sociale, le persone, i cittadini veri in carne ed ossa sono stati il più delle volte dimenticati dalla politica e quindi noi li vogliamo coinvolgere nel produrre idee, progetti, passione, perché la politica è la speranza di un futuro migliore e se non è fatta per tutti non serve a nessuno. La città futura è già oggi. La scorsa settimana, Elvira, abbiamo assistito alla sfiducia da parte dei dieci consiglieri comunali al sindaco Adamo Coppola. Ecco, il tuo pensiero in merito a questa situazione? Adamo Coppola ha subito lo stesso trattamento che ho subito anch'io. Quando non ero più utile agli interessi di qualcuno si viene cacciati via. Con la differenza che io dopo un anno e mezzo sono stata mandata via perché avevo chiesto qualcosa per il bene della comunità. Io e la mia famiglia non abbiamo mai chiesto nulla per noi stessi. Il nostro atteggiamento verso le persone è di totale condivisione. E quindi quando noi abbiamo chiesto una battaglia per l'ospedale civile di Agropoli che ad oggi rimane chiuso, ecco, non servivamo più a quel tipo di politica e quindi siamo stati mandati via. Umanamente mi dispiace perché non è così che si trattano le persone. Io sono lontana dall'atteggiamento di Adamo Coppola ma sono lontanissima dall'atteggiamento di chiunque pensi di poter schiacciare le persone. Si può contrastare una politica perché non va bene, però le persone dispiace quando vengono maltrattate. E mi dispiace che anche lui abbia dovuto subire lo stesso dolore che ho sentito io quando ingiustamente sono stata mandata via. Dunque Alfieri ha scelto Mutali Passi anziché fidarsi di lei, Elvira. Perché? Io ci ho provato a tenere insieme tutti perché io volevo una città che fosse finalmente unita da un interesse comune, che fosse la città. Però molto spesso noi donne siamo sottovalutate. C'è chi non ci ritiene all'altezza probabilmente, anche se noi abbiamo dimostrato in tutti i settori di essere all'altezza. E poi consentitemi di dire, una donna guarda sempre gli altri come se fossero i propri figli, ha sempre l'atteggiamento di una madre. E questa città ha bisogno della difesa di una madre. Certo, avrei voluto una svolta vera in questa politica del fare bene. Scegliere questa volta persone competenti, all'altezza, che avessero dimostrato qualche volta o almeno una volta di avere un progetto politico. Allora che serve scegliere le persone quando queste non sono portatrici di un progetto politico? Allora io sentivo in me la forza di poter difendere la mia città, di portare un rinnovamento della politica. E questo rinnovamento sarebbe servito anche a chi fa politica da tanto tempo in nome e per conto dei territori. Vedete, non dovete avere paura di chi dissente, non dovete avere paura di chi ha un'idea propria. Perché la politica deve capire che chi ha un'idea propria rafforza anche voi. Altrimenti avremo altri 15 anni di non determinazione, di non capacità di idee, di non capacità di progettazione. E guardate, alla lunga non bastano le opere. Quello che ci vuole è mettere giustizia, difendere i diritti, far rinascere l'amore per la città. Altrimenti il vostro messaggio creerà soltanto differenze e disparità. E quando vi troverete a voler unire la città, avrete poi in quel momento la delusione di non essere stati seguiti. E vi chiederete perché quando si semina dissidio, si raccoglie dissidio. Ilvira, parliamo a grandi linee di quello che è il progetto che anticipavi all'inizio di questa intervista. Che cosa intende fare per la città di Agropoli, Ilvira Serra, con il suo gruppo? Fondamentalmente, noi puntiamo sugli uomini, sulle capacità personali. Noi non faremo una campagna elettorale promettendo posti o da Naro come 5 anni fa o come altri anni ancora. Perché la gente lo sa, è stufa, lo sa che quelle sono promesse vuote, che faciliteranno qualcuno a riempire le proprietà, ma non porteranno nulla alla città. E quando la città non va bene globalmente, perché i progetti e le competenze non ci sono, la città ne sarà ancora impoverita. I prossimi 5 anni sono anni fondamentali. Se si fosse pensato alla città, in questo momento, bisognava proporre e cercare di portare a noi, alla città di Agropoli, i progetti del PNRR, che sono partiti già da febbraio 2022. Non avete visto niente, cittadini. Si discute su posti, intrallazzi, imbrogli. Ma avete visto partire i progetti per la città? E questa è la promessa. Ecco, la mia promessa è che io voglio essere il sindaco di tutti. Io voglio portare amore per la città, uguaglianza per la città. Io voglio portare passione nei progetti, ma attraverso la concretezza di giovani professionisti e di donne e uomini che, alla pari, porteranno avanti dei progetti per il rinnovamento per la città. Perché la città futura è già ora e l'unica proposta credibile è il Viraserra Sindaco.